bella amici e amiche dove 3 games bus masterfishing 2022 bus pressing button bella ragazzi un altro mega video del vostro marco dramos games channel un po stanco perché stanotte ho fatto ore tardi adesso siamo sabato mattina e sono veramente stanco però non frega niente a voi quindi andiamo avanti allora continuiamo ok la musica è carina allora io volevo farvi vedere questo perché è incluso nel playstation plus oppure addirittura quello della ubisoft però non ne sono sicuro non vorrei dire cose sbagliate quindi partiamo dal presupposto che questo è soltanto un gioco di pesca allora per attenzione un secondo partiamo subito con il video non credo ce ne saranno altri oltre questo ma magari è il gioco più bello del mondo e ci giocherà più molto non credo non credo ok ho pulito il tavolino stavo in seguito ma ho dovuto pulire tutto il tavolino che era tutto ok bella ragazzi andiamo no non credo allora lake lago emilton son john river toledo cicamauga sottoburo cubain river south lawrence river e emilton dai famo emilton specie sette legendarie tempo asciutto bus master fishing allora da quello che ho capito questo gioco simulativo di pesca è fatto bene comunque non c'è la parte italiana non c'è assolutamente nulla di italiano ci sarà tantissime cose da capire leggere e vedere credo almeno poi vedremo insieme come si comporta il gioco ma ci abbiamo anche la barchetta ma ci abbiamo anche la barchetta tra l'altro graficamente tanta roba allora sono un po' basito bisogna anche capire dove sono a parte più finita con i pezzi ok mazzarola si si basic control allora L2 ok R2 bam bella aaaaah ok ok sbagliato ok perfetto mettiamolo da giù perché l'acqua sembrava tutta di fangazza niente 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 triebe per te c'è il coso dietro ok ragazzi non sono capace di pescare interessante la faccenda eh o secondo me è o secondo me è che è o secondo me è vanno vanno a vanno 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 guarda anche se fai parte da il viaggio è la paura oh 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 guarda lì ok vai lancia lì ho visto ho visto qualcosa un pece un pece un pece un pece un pece dai pece cacchio si go strike buona pece il mio primo pecio grande il mio primo pecio un pece ok ci ho preso un po' la mano vai ok parma il mio India fai lasciato un po' Oh, 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 oh. Ho perso il pesce. Ah, long, adesso ho capito long. Ah, allora, vai. Ok. Vai, 83, bello lontano. Bello lontano, bravo. Oh, serio? No, non riesco a capire. Oh, no, no, no. Cosa è successo? Perché ho schiacciato il cerchio? C'era un pescioccio pauroso di sotto. No, no. Dai, ragazzi. Dai, che c'è una bella esca qui, tutta per voi. Forza. Dai, pesciolini. Olivia, c'è i pesciolini qua. No. Guarda che io sappia quando devo pescare con mio zio. Lo zio lui. Bisogna. Allora, torniamo di qua. Vai. Long range casting. Un po' di qua. Pesci. Pesci. Oh, 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 oh. Grande. Dai, dai, dai. Fisso bisogna seguirlo se c'è lino un po', eh. ok 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 vai 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 oh oh attenzione attenzione tira 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 bello il penciotto grande trans un altro bel penciotto a screenshot to get the view expand grande oh tanta roba to get the view continua e ho preso un altro bel pesciotto io cambierei zona anche se probabilmente questa è la zona più bella dove pescare in questo video dove ho trovato due bel cucciotto oh guarda qui ma non c'è nè ok peschiamo 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 vai vai johnny martin ok vediamo che il bel pesciolozzo c'è comunque non credevo che era così appassionante il gioco del pescatore non è male ragazzi non è per niente male è fatto bene non capisco questa acqua fangazza probabilmente è un fiumiciatolo che c'è l'acqua fangazza non è la limpida come i caraidi ecco come come in costa azzurra qui ho più una bonza anche se è bello bello grande il laghetto qua eh ah bisognerebbe andare a poscare magari adesso lo proviamo dai usciamo e andiamo a provarlo in un altro qui ci doveva essere un sacco di pesci invece non c'è nessuno allora con la x cosa succede? non lo so col cerchio tira su vabbè allora facciamo così già che i due pesciazzi li abbiamo presi facciamo quit grande 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 due pesci eh incredibili incredibili vediamo uno bello questo 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 credo che è un bella gozzo vai un bella gozzo un bella gozzo dai andiamo a pesciare ok andiamo a pesciare ok andiamo a pesciare ok allora andiamo allora c'è il prima di tutto se andiamo troppo veloci col motoscapo è divertente ma divertente allora vedete un pesciolino è un pesce grande è un pesce piccolo stai iniziando ad arrivare a tanti pesci pesci grandi e pesci piccoli quindi incominciamo qua a buttare la nostra canna occhia oh 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 seri guardate che pesce che c'è lì dai pesce pesce te lo sto mettendo praticamente in bocca sei morto? pesce uh c'è già fondale è basso qui raga quel pesce è morto secondo me ok sembrava una zona con tanti pesci ma se di pesci non ce n'è allora facciamo così bam vai una bella tirata lunga grande ok oh questo è solito pesciazzo morto no ora si muove la cosa guardi che è tranquillo dai che c'è la papa qui su allora si invece ritiro ancora raga sei serio oh 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 si si no credo che sono sbagliate non gliene frega nulla può essere che è sbagliato il oppure non c'è la cassetta degli attrezzi qua può essere che è sbagliato posso selezionare questo ok vediamo se magari mi piace di più questo 98 guarda il 100% ah è proprio una rana povera rana povera rana ah 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 ok ok tiriamo oh 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 ok tira 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 marco oh 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 dai che sta venendo c'è che sta venendo altra parte oh 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 occhio oh 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 st stappando occhio 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 come tira come tira dai che la tengo lì qui dai che la tengo lì qui dai che lo devo Oh, attenzione a tirarlo, attenzione! No, 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 no! Oh, 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 guarda, guarda, guarda! Va come tira! Oh, oh, tira! Tira, 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 tira! Mamma mia, ragazzi, con una rana c'è... Oh, 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 ma tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Sto attenti che mi strappa il filo, eh! Cosa è successo? È strappato il filo! Overpower! Overpower, tanta roba! Oh! Guarda la ranina! Caspita, ragazzi, che roba! È andato più filo che... Oh, calmo, calmo, calmo! No! Non ci siamo! Secondo me c'è un trofeo, no? È 100% proprio! Ok, qua non c'è niente, ragazzi! Ok, qua non c'è niente, ragazzi! Non c'è proprio nulla! Ok, costante... No, 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 non c'è niente! Che peccato! Sarebbe stato veramente bello pescare... Un pesciolozzo... Oh! Dai, dai! Ok, preso! Piscione! Dai, 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 dai! Non fare cose strane, pesciolino! Sì! Sì! No! Vai! Yes! Yes! Che bello pesciazzo verde! Che bello pesciazzo verde! Non si può impostare alcuni record con questo, ma almeno è un buon, solid keeper! Buon, solid, people! Grande drums! Vabbè, dai, allora! Siamo chiedato in barca! Allora... Fatto bene! Mmm... Che, graficamente... Devo essere sincero, eh? la barchetta il personaggio dai alla fine ci sta un bel giugino ok quit vediamo cosa abbiamo pescato un bel l'ergemut bus interessante 96, 68 0 beh da Marco Drums Games bus master fishing 2022 tutto in inglese mi sono comunque divertito poi c'è anche la parte online la carriera tanta roba tanta roba lo shop se volete comprare le vostre cane da pesca nuove di pacca ci vediamo al prossimo video amiche e amici Marco Drums e saluta ci vediamo alla prossima non so se farò altri video di questo gioco però mi sono divertito un po' può essere ci saranno altri video di questo gioco e tantissimi altri video e tantissimi altri giorni ciao ragazzi alla prossima ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao